Grazie a tutti e a tutte per essere venuti, come avrete visto dal manifesto digitale che abbiamo distribuito nelle ultime settimane, Cintia oggi è qui per presentare il suo ultimo libro, che è un libro in realtà scritto con Titi Baciaraya e Nelson Fraser, che è stato tradotto in italiano e non so quanto, però continuo a vedere l'annuncio di Novenzina, ed è uscito in italiano quest'anno per la terza, questo è il libro, abbiamo un desiderio di organizzare e consegnare in questo modo, Cintia ci darà una panoramica di questo manifesto e poi io, Mario e Simona faremo un po' di domande a testa e apriremo poi il dibattito ai presenti e ai presenti. Cintia te, grazie intanto per l'invito, ma provo a essere breve, così magari ho anche il tempo per discutere e quindi provo a dare un po' una panoramica del manifesto, cioè delle ragioni per cui l'abbiamo scritto e un po' qual era l'intento politico nello scrivere questo manifesto. Allora, innanzitutto parto con una precisazione rispetto a quello che il manifesto non è, cioè questo non è un manifesto programmatico in cui si indica una strategia concreta, una strategia politica concreta, perché chiaramente quando si discute poi di strategie politiche sono le soggettività stesse che sono impegnate in un movimento, in una lotta a doverle discutere e tra l'altro discuterle nel contesto in cui stanno operando. quindi abbiamo pensato che non fosse opportuno proporre una sorta di ricetta valida per tutti e quindi una direzione programmatica valida per tutti. Quello che invece vogliamo provare a fare con il manifesto era, come scriviamo a un certo punto, una sorta di correzione di rotta all'interno del femminismo e l'intento è di indicare un po' un orizzonte politico teorico che possa sostanzialmente essere uno strumento utile di orientamento politico per la nuova ondata femminista che è chiaramente l'interlocutrice principale che avevamo in mente nello scrivere il manifesto. E quindi una correzione di rotta, l'indicazione di un orizzonte complessivo a partire da un'analisi della situazione attuale, cioè da un'analisi di quali sono a nostro avviso le caratteristiche della crisi che stiamo attraversando, a partire da una critica del femminismo liberale rispetto al quale il femminismo per il 99% vuole essere un'alternativa e a partire ovviamente dalle elaborazioni teoriche e pratiche già portate avanti dal movimento femminista in giro per il mondo. Quindi il manifesto è stato reso possibile dal fatto che da tre anni abbiamo un movimento femministo internazionale, scrivere un manifesto di questo tipo già semplicemente tre anni fa sarebbe stato per certi versi belletario. Il movimento ha reso possibile invece la stesura di un manifesto femminista che avesse l'ambizione di avere un impatto politico proprio perché il movimento ha messo in campo le soggettività politiche e sociali che possono agire sulla base di alcune indicazioni di rotta all'interno del manifesto, ma anche perché il movimento ha anche anticipato tutta una serie di intuizioni o analisi che articuliamo all'interno del manifesto. Da questo punto di vista abbiamo imparato moltissimo dalle elaborazioni dei documenti prodotti del movimento femminista. Quello che però facciamo con il manifesto è sostanzialmente anche un'opera di sistematizzazione che ha un perno centrale che è la questione del capitalismo e quindi la questione degli effetti del capitalismo dal punto di vista dell'oppressione di genere e dell'oppressione sessuale e la questione del capitalismo come orizzonte da superare e quindi come questione fondamentale che divide il femminismo per il 99% dal femminismo liberale. Vi dirò qualcos'altro su questo. Quindi siamo state motivate e ispirate dal movimento femminista, siamo state anche motivate dal fatto che riteniamo che ci troviamo a livello globale di fronte a una crisi complessiva, una crisi complessiva di società o di sistema e questa crisi rende assolutamente urgente provare a articolare delle alternative rispetto alla crisi. Quindi dedichiamo ad esempio una tesi, il manifesto è organizzato per tesi, una delle tesi è dedicata appunto alla questione della crisi dove chiariamo il fatto che per crisi non intendiamo soltanto la crisi economica iniziata nel 2008 ma intendiamo anche una crisi politica e quindi una crisi sostanzialmente di legittimazione del liberalismo che a nostro avviso è sicuramente del neoliberalismo che a nostro avviso si è aperta. Fu una crisi ecologica ovviamente, una crisi ambientale dovuta al cambiamento climatico e poi cosa fondamentale per la nostra analisi è quella che chiamiamo una crisi della riproduzione sociale che è la forma di crisi che ha più a che vedere, in realtà tutte e quattro hanno a che vedere con l'oppressione di genere sessuale ma la crisi della riproduzione sociale è per certi versi l'elemento centrale a partire dal quale è possibile comprendere le ragioni dell'oppressione di genere all'interno delle società capitalistiche, le dinamiche che si stanno verificando da questo punto di vista a livello globale ma anche il perché ci troviamo di fronte a una nuova ondata femminista di dimensioni di massa quelle che abbiamo visto negli ultimi tre anni. Ora per riproduzione sociale quello che intendiamo è qualcosa di diverso da quello che intendeva Althusser, nel senso che il femminismo marxista in particolar modo ha elaborato il concetto di riproduzione sociale a partire da uno sguardo per certi versi più ristretto rispetto a quello Althusseriano, nel senso che per riproduzione sociale non si intende la riproduzione delle condizioni della produzione, si intende in realtà la riproduzione della forza lavoro o della nostra capacità di lavorare e quindi si tratta di una sfera per certi versi o di un insieme di rapporti sociali di attività più ristretta rispetto all'intera riproduzione della società capitalistica e delle condizioni dell'ascoltamento. Il motivo per cui pensiamo che la riproduzione sociale sia un concetto fondamentale per comprendere la forma specifica che l'oppressione di genere ha assunto all'interno del capitalismo e che sostanzialmente attraverso, diciamo, a partire dall'inizio del capitalismo e dal processo di accumulazione primitiva, quello che si è prodotto per la prima volta, diciamo, in termini generalizzati a tutta una società dal punto di vista storico è stata appunto una separazione tra riproduzione sociale e produzione e quindi la formazione, diciamo, della famiglia come un luogo, il luogo della sfera privata sostanzialmente contrapposta rispetto alla sfera pubblica del lavoro formale. Un altro elemento caratteristico delle società capitalistiche è il fatto che oltre a essere separata dalla produzione, la riproduzione sociale è anche subordinata alla produzione per profitti. Questo significa molto semplicemente che da un lato chiaramente il capitale ha la necessità che la riproduzione sociale abbia luogo perché ha la necessità che la forza lavoro, la capacità di lavorare vende riprodotta, dall'altro lato chiaramente la tendenza è quella a pagare il meno possibile i costi della riproduzione sociale e quindi a comprimere il più possibile questi costi. Come questo avviene? In primo luogo attraverso appunto la funzione fondamentale della famiglia e la funzione in particolar modo delle donne all'interno della famiglia e cioè l'erogazione di tutto un insieme di lavoro non retribuito, non riconosciuto come lavoro, non formalizzato che è un lavoro di riproduzione sociale. Quindi da un lato la privatizzazione di questa attività e la sua considerazione appunto non come attività lavorativa in senso proprio e quindi anche la sua svalutazione dal punto di vista culturale simbolico e soprattutto diciamo la sua gratuità in certi versi dal punto di vista del capitale. Dall'altro lato chiaramente una tendenza continua, ovviamente in una lotta costante con la classe lavoratrice, una tendenza continua che ha eliminare il più possibile o tagliare il più possibile, soprattutto in periodi di crisi, l'erogazione pubblica di riproduzione sociale dagli ospedali all'istruzione pubblica, agli asili, agli asili niti e così via dicendo, quindi tagli o la tendenza verso il taglio costante al welfare e questo tipo di servizi pubblici. È un elemento specifico in particolar modo del neoliberismo, una tendenza anche laddove può costituire un mercato profittevole con la tendenza anche a mercificare almeno alcuni settori della riproduzione sociale e quindi trasformare sostanzialmente la riproduzione sociale in una ulteriore occasione di estorsione di profitti. Faccio un esempio, in metropoli come New York ovviamente, e questa è la differenza tra una metropoli come New York e le città del sud Italia, dove il tasso di occupazione femminile è bassissimo, in una metropoli come New York la riproduzione sociale è diventata un mercato assolutamente vantaggioso dal punto di vista del capitale e quindi c'è una tendenza a una crescente organizzazione capitalistica della riproduzione sociale all'interno della metropoli. Dalle grandi catene di lavanderie, alle grandi catene di ristoranti, alle varie app che è possibile utilizzare sostanzialmente per avere qualsiasi forma di servizio a domicilio, appunto dalle pulizie, al cibo, alla lavanderia, eccetera, eccetera, alle babysitter e così via. Questa continua pressione nei confronti della riproduzione sociale genera come conseguenza da un lato appunto il fatto che in particolar modo in una situazione di crisi come quella attuale alle donne viene richiesto di nuovamente di svolgere il lavoro non ritribuito di pura di riproduzione e quindi con un rafforzamento della divisione di genere del lavoro e dei ruoli di genere. Dall'altro una tendenza al deterioramento delle condizioni di lavoro oltre alla qualità dei servizi all'interno ad esempio del settore pubblico e quindi la tendenza di utilizzare forza lavoro femminilizzata in maniera tale da abbassare ulteriormente il costo del lavoro e la tendenza poi a ulteriormente peggiorare, diciamo sottrarre i diritti sindacali, i diritti del lavoro, peggiorare le condizioni di lavoro, eccetera. Giusto per dare un esempio di come funziona questo fenomeno, la recente, nell'ultimo anno, ondata di scioperi che si è svolta, che è avvenuta all'interno degli Stati Uniti, ondata di scioperi che ha riguardato in particolar modo il settore della riproduzione sociale e quindi in particolar modo l'educazione pubblica e il sistema sanitario coinvolgendo una forza lavoro nella maggior parte dei casi femminile, una forza lavoro che si è mobilitata a partire appunto da una insostenibilità delle condizioni di lavoro e quindi il fatto che nel corso degli anni le condizioni di lavoro si sono deteriorate progressivamente, ma anche a partire da una critica rispetto alla qualità del servizio offerto, quindi da una critica che tenesse insieme questioni strettamente sindacali riguardanti il contratto e le condizioni di lavoro e la questione della qualità del servizio, la qualità dell'educazione che viene offerta alla sua organizzazione, la qualità dell'organizzazione della sanità e così via dicendo. La tesi che sviluppiamo nel manifesto è che al momento ci troviamo all'interno di una crisi della riproduzione sociale, per crisi in questo caso intendiamo il fatto che la pressione soprattutto a partire dal 2008, ma in realtà per tutti i decenni nei liberisti, sul settore della riproduzione sociale è diventata talmente forte da sostanzialmente produrre o condizioni di lavoro insostenibili, cioè al di sotto di quello che è necessario per la propria sopravvivenza o sostanzialmente negazione di accesso a servizi fondamentali dal punto di vista della cura delle persone, della socializzazione delle persone eccetera. E quindi colleghiamo la nascita del movimento, di questo nuovo movimento femminista, in realtà ha un processo di attivazione complessivo delle donne a livello globale, non soltanto all'interno del movimento femminista, ma ad esempio in tutta una serie di lotte sindacali, ho fatto l'esempio degli Stati Uniti, ma si potrebbero fare ulteriori esempi, lo sciopero a Glasgow per la parità di genere delle lavoratrici domestiche e così via dicendo. Quindi ci troviamo di fronte a un processo di attivazione, di nuovo protagonismo di massa delle donne che prende diverse forme, tra le maggiori forme che ha preso l'ondata femminista, alcune vertenze sindacali, le ondate di sciopero sindacali e il protagonismo delle donne in una serie di mobilitazioni ambientali, non faccio riferimento soltanto al climate strike, ma anche ad esempio alle lotte delle native americane in South Dakota contro la Dakota Pipeline o le lotte a Flint per esempio per l'acqua, in risposta diciamo alla scoperta che l'acqua comunale radiava il piombo e così via dicendo. Se andiamo a guardare un po' anche a una serie di lotte di comunità attorno alla questione ambientale, nella maggior parte dei casi scopriamo che le donne svolgono un ruolo particolare da protagoniste nella direzione della lotta, nell'animare la lotta eccetera. Questo è il nostro avviso a che vedere appunto con il ruolo specifico delle donne e persone femminilizzate all'interno della riproduzione sociale, cioè col fatto che le conseguenze di questa continua pressione sulla riproduzione sociale vengono avvertite in primo luogo dalle donne e infatti in primo luogo sulle condizioni di vita delle donne. Quindi a partire da qui abbiamo diciamo in una serie di tesi abbiamo provato a spiegare per quale motivo il capitalismo è assolutamente negativo per le donne e per le persone queer e a partire dalla questione di imperialismo, immigrazione, razzismo e il modo specifico in cui le donne sono vittime di politiche imperialiste e di politiche xenofobiche. La questione ambientale e quindi anche in questo caso l'impatto differenziale che la crisi ambientale ha sulle donne in quanto primaria e responsabile di tutta una serie di paesi, le donne hanno la responsabilità di trovare l'acqua pulita, il cibo, della sopravvivenza materiale giorno per giorno della famiglia ed è chiaro che le conseguenze climatiche prodotte dal cambiamento climatico, da siccità e così, più l'inquinamento hanno un impatto diretto proprio sulle attività di riproduzione svolte da queste donne. E anche dal punto di vista della crisi politica, in realtà come stiamo vedendo anche in seguito all'ascesa di nuove destre un po' dappertutto, anche in questo caso in realtà le donne e le persone queer sono tra le principali vittime della crisi politica. Dal punto di vista infatti della crisi politica in cui ci ritroviamo, noi l'abbiamo provata a concettualizzare in questi termini, chiaramente si tratta di una concettualizzazione molto generale e quindi va poi applicata per paese perché chiaramente paesi specifici hanno le loro dinamiche politiche. Sostanzialmente a nostro avviso il contesto politico si sta polarizzando tra due proposte politiche che entrambi definiamo come proposte neoliberiste e proposte di gestione del capitale. Da un lato abbiamo quello che chiamiamo, quello che Nancy Fraser ha chiamato il neoliberismo progressista o liberalismo progressista e con questo si intendono una serie di forze democratiche centriste che nel corso degli anni in vari paesi hanno portato avanti una serie di politiche di austerità o di politiche neoliberiste dalle riforme del lavoro ai tagli, ai servizi sociali, ai servizi pubblici, alle grandi privatizzazioni e così via. Hanno anche portato avanti politiche imperialiste, neanche di aggressione militare nei confronti di altri paesi, allo stesso tempo però vestendosi un po' di rosa e di verde, in altri termini ripoverendosi diciamo di una patina progressista sulla base di una difesa dei diritti formali delle donne e delle persone LGBT, ad esempio il cavallo di battaglia del matrimonio tra persone dello stesso sesso, eccetera, o rivestendosi anche della patina del green capitalism e quindi l'idea sostanzialmente la creazione di, da un lato diciamo una serie di politiche volte a limitare gli effetti inquinanti di una serie di compagnie ma anche la creazione di una nicchia di mercato sostanzialmente green e potenzialmente portatrice di profitti. Tra i vari esempi di liberismo progressista o neoliberismo progressista possiamo pensare al partito democratico ovviamente sia di Obama che di Clinton negli Stati Uniti per cui da un lato si portano avanti comunque politiche neoliberiste e di deportazione di migranti, eccetera, dall'altro lato però ci si ammanta di una patina progressista nel criticare formalmente il razzismo o nel far passare fino all'impremere perché passi la sentenza della corte costituzionale di riconoscimento del matrimonio tra persone dello stesso sesso, eccetera, ma in parte, solo in parte a causa dell'influenza della Chiesa Cattolica anche il Partito Democratico in Italia e in generale possiamo pensare anche alle varie forze democratico progressiste in giro per l'Europa che si sono caratterizzate appunto per portare avanti in realtà politiche di austerità all'interno dell'Unione Europea ma allo stesso tempo presentandosi continuamente come forze sostanzialmente civilizzatrici, eccetera. In risposta a questo neoliberismo progressista abbiamo un'ascesa delle, e in risposta anche alla crisi abbiamo un'ascesa delle nuove destre sostanzialmente un po' dappertutto, da Modi in India, Bolsonaro in Brasile, l'Italia lasciamo perdere, Salvini in Italia e varie forze sovramiste di destra in Europa, da Orbán, eccetera. Quindi abbiamo una, e chiaramente anche Trump negli Stati Uniti. E dicevo prima che le donne e le persone queer sono le prime vittime della crisi politica perché in questo processo di ascesa delle nuove destre e di polarizzazione quindi tra diciamo un neoliberismo dal volto progressista e un neoliberismo dal volto neotradizionalista, in questa polarizzazione le donne, le persone queer, i diritti delle donne, delle persone queer diventano uno dei primi target delle nuove destre. Se si va a guardare tra le prime dichiarazioni politiche e le prime iniziative politiche di praticamente tutte le varie forze di estrema destra al governo attorno al pianeta, si possono notare due grandi cavalli di battaglia, uno sono appunto aborto, i diritti delle donne, l'ideologia gender, i diritti LGBT, le persone trans, eccetera. Il secondo chiaramente sono immigrazione o persone razzializzate. Questi due cavalli di battaglia rappresentano per certi versi l'identità politica primaria delle nuove destre, soprattutto perché come dicevo le nuove destre si presentano come l'alternativa alla crisi neoliberale e al deterioramento delle condizioni di vita che si è prodotto in questi decenni senza però in realtà esserlo. Nel senso che se si va a vedere ad esempio Bolsonaro in Brasile, una delle prime iniziative di Bolsonaro in Brasile era appunto una riforma della social security, quindi del sistema pensionistico, di stampo prettamente liberista. Dunque si tratta di forze che in realtà non hanno molto da offrire dal punto di vista di un'alternativa reale, dal punto di vista dell'economia politica, ma che quindi hanno la necessità di portare avanti quella che negli Stati Uniti si potrebbe chiamare la cultural war, quindi un attacco frontale rispetto a soggettività o diritti formali che vengono interpretati come uno degli ingredienti principali della degenerazione e del degrado sociale in cui ci ritroviamo. Per concludere all'interno di questa polarizzazione quello che scriviamo all'interno del manifesto femminista è che è il femminismo liberale che ha rappresentato il femminismo egemonico nel corso degli ultimi decenni e questo non vuol dire che non esistessero altri femminismi o altre teorie o altre pratiche, però se si va a guardare quale forma di femminismo è riuscito sostanzialmente a diventare per certi versi linguaggio comune di organizzazioni politiche mainstream, grandi media, organizzazioni non governative, organizzazioni legate alle Nazioni Unite eccetera, la forma di femminismo che è riuscita ad acquisire questo tipo di egemonia è il femminismo liberale. Per spiegare molto brevemente che cosa intendiamo per femminismo liberale? Lo si potrebbe sintetizzare in questi termini, cioè il femminismo liberale è una forma di femminismo che si concentra sulla parità di genere all'interno di una struttura sociale che non viene messa in discussione nel suo complesso. In altri termini è una forma di femminismo che non mette in discussione gerarchie sociali legate ad esempio alla classe ma rivendica una parità di genere all'interno della gerarchia sociale quale è, in particolar modo con una particolare attenzione chiaramente alla parità di genere all'interno delle classi dirigenti. E dunque la rivendicazione ad esempio dello sfondamento del tetto di cristallo che è diminuta negli scorsi anni sostanzialmente una delle parole d'ordine femministe che hanno avuto una maggiore circolazione con una serie di statistiche su quante donne manager, quante donne ai capo di aziende e così via dicendo, presentato come obiettivo che in realtà non riguarda soltanto un settore specifico di donne ma che riguarda tutte le donne, cioè come se sostanzialmente diventare un manager di un'azienda fosse una prospettiva di vita e di lavoro che è disponibile, che effettivamente è aperta per la grande massa delle donne e l'unico problema è l'assenza di parità di genere. Quindi per dirla con una battuta nel manifesto abbiamo definito il femminismo liberale come un femminismo della pari opportunità di dominio, cioè sostanzialmente un progetto di classe specifico che mira alla parità di genere all'interno delle classi dirigente e che mira dunque a far sì che sostanzialmente donne appartenenti all'elite godano delle stesse opportunità rispetto agli uomini della loro classe. All'interno della crisi, ora questo tipo di femminismo liberale chiaramente non ha molto da offrire alla grande massa di donne o persone queer, ma in più all'interno della crisi attuale, della crisi politica, economica, ecologica e di riproduzione sociale, il femminismo liberale in realtà rischia di produrre ulteriori danni, nel senso che diventa sostanzialmente un target molto facile dal punto di vista delle destre neotradizionali e allo stesso tempo continuando sostanzialmente a propagare un po' una favola che è quella della trickle down economy, però applicata in questo caso ai diritti delle donne, cioè se riusciamo ad arrivare a una situazione in cui abbiamo una proporzione di donne al più alti livelli di direzione della società incomparabile rispetto al passato, nel modo in cui funziona la trickle down economy, questo sostanzialmente beneficerà anche tutto il resto delle donne. Tra l'altro all'interno della prospettiva del femminismo liberale il rischio è che nella polarizzazione politica tra liberismo progressista e nuove destre il rischio è che sostanzialmente è quello di pensare di dover scegliere da questo menu necessariamente e cioè sostanzialmente l'alleanza naturale da perseguire per la grande massa di donne e persone queer sia quella con il liberismo progressista per fermare l'avanzata delle orde barbariche. Da questo punto di vista, questa è la conclusione, il manifesto conclude invece sostenendo che bisogna rigettare le due opzioni di questo menu, bisogna rigettarle entrambe, fondamentalmente perché queste due opzioni si nutrono a vicenda e si generano in un certo senso a vicenda e da questo punto di vista la nuova ondata femminista sta già nella pratica mostrando una possibile alternativa, sta mostrando la possibilità di un'opposizione di massa alla scesa delle nuove destre, delle destre estreme, un'opposizione di massa che non fa nessuno sconto rispetto a rivendicazioni femministe o di liberazione sessuale ma allo stesso tempo collega queste rivendicazioni a rivendicazioni di classe antiimperialiste, antirazziste e le ecologiste. Quindi chiudo qua nel senso che, come dicevo prima, non ci fermiamo qui nel manifesto, nel senso non spieghiamo cosa il movimento femministo dovrebbe fare, l'unica direzione di orientamento che indichiamo è che da un lato se vogliamo pensare a un'alternativa rispetto all'ascesa delle nuove destre, bisognerebbe partire da chi già si sta mobilitando con successo contro il nuovo destre, cioè con la capacità di coinvolgere milioni di persone, di portarle nelle piazze, di bloccare la produzione, la riproduzione eccetera. L'altra questione che poniamo nella tesi finale è quella chiaramente dell'espansione del movimento femminista, cioè la capacità del movimento femminista di intanto parlare per il 99%, cioè proporre un'alternativa sociale e politica che non sia soltanto per le donne o persone qui, ma che sia per tutti e tutte e nel fare questo anche provando a costituire per certi versi un lievito di una mobilitazione complessiva che coinvolga anche altre soggettività che in questo momento si stanno mobilitando all'interno di un progetto comune anticapitalista. Grazie a tutti, come anticipavo prima, io, Maria e Timona, in questo organismo, facciamo un paio di osservazioni e domande e poi apriamo il pubblico. Allora io, non ho mandato le domande anticipatamente, dunque, la rambata. No, però, c'è il senso, al nostro stavore, per realtà alcune delle questioni che io volevo sollevare le coperte, però non completamente, per cui, perdona la mia ridondanza, volevo proprio partire da dove sei partita tu, ovvero da che tipo di testo si tratta. Penso che quando ho iniziato a leggerlo mi sono venuti in mente quelle che storicamente sono definiti dei manifesti, no? E che hanno, cos'è il manifesto, se vogliamo dire come tipologia di testo, come genere letteral, ma anche, no? Che caratteristiche ha? Però il testo tendenzialmente anonimo, firmato collettivamente, c'entrappiene una precisa relazione con lo scenario di un testo politico da cui emerge e che ha, appunto, linguaggio esortativo, diretto, però, come tu dici giustamente, questo non è una chiamata malearmi, non è un testo programmatico, è un testo diverso. Io però forse mi sarei aspettata magari un esordio più situato, se vogliamo, cerchi espliciti come si collo parole attrici, e attrici sono le autrici, rispetto al testo che collettivamente scrivono. E appunto mi viene in mente il manifesto del Combine River Collective che parte, no? Esordendo con il We Are, rendendo appunto noto il percorso che ha condotto le autrici le autrici alla stesura di quel documento. Dunque, quello mi chiedo è che forse più che un manifesto, come tu dici, è uno strumento analitico, molto accessibile, però allo stesso tempo ricco, che vuole principalmente smascherare il femminismo liberale, che molte donne e uomini simpatizzanti, che sintonizzano per il femminismo, scambiano per un femminismo autentico, per il volesse. Dunque, appunto, quando ho iniziato a leggere ho pensato più che, probabilmente, nella parte iniziale, più che un manifesto per i 90 là, un manifesto contro l'uno, no? Che però è molto interessante, cioè non la dico, non sto muovendo semplicemente una pedica, un'osservazione, nel senso che è un manifesto che parte dall'individuazione di un nemico interno. E in questo modo, come dire, metti in luce come il capitalismo sia logicamente indifferente alle differenze di genere, di classe, che puoi spiegare come storicamente non lo sia. E dunque, insomma, questo stupore rispetto a quello che è la qualità letteraria del testo, però poi ha un senso nella maniera in cui viene sviluppato questo progetto di libro, a mio avviso. E poi trovo molto interessante anche che, appunto, metti in luce come questo femminismo liberale non sia solo nemico di un femminismo materialista, anticapitalista, ma in quanto l'Italio è uno dei fattori che hanno contribuito all'emergenza di una noventà popolista. E dunque è interessante come si tengono insieme tutta una serie di fenomeni politici contemporanei. Due questioni. C'è una questione appunto a cui non ho accennato che è quello dello sciopero, che appunto è uno degli strumenti principali che il nuovo femminismo ha risignificato. E mi chiedo se lo sciopero sociale, nella maniera in cui è inteso nel contesto italiano, è veramente o sia stato in grado di intaccare in maniera significativa il rapporto di forza tra capitale e lavoro. O se ha una funzione ancora performativa allo stato attuale. E quali sono delle possibili evoluzioni di questo strumento. altra questione. Tu accenni a una galettica interessante tra appunto un neotradizionalismo e un sexual liberalism. Non so come tu d'oro in italiano, a cui accennavi prima. Cioè uno è la mirror image dell'altro, uno è spettuale rispetto all'altro. E appunto accenni a tutta una serie di esempi di come capitale di non si è riuscito, stia riuscendo a ricomprendere dentro di sé delle istanze del movimento LGBT queer. Io volevo sapere, se magari hai sentito o che opinione hai, e questa è una domanda che poi appongo a tutti, rispetto al Gender Recognition Act in Gran Bretagna. Cioè che è un atto che permette a soggetti trans non-binary di dichiararsi, una self-recreation di dichiararsi trans senza passare attraverso tutta una procedura che dura due anni e lo Stato ha legittimati tale sulla base di una serie di documentazione. Dunque, ecco, volevo iscrivere questo, portare questo esempio e capire come si colloca nella tua analisi di questa, appunto, neoliberismo progressista. Allora, facciamo tutto insieme? No, ho visto voi. Ok, forse... Sì, è stato un po' troppo. Ok, ma intanto la... Ma, diciamo, la parte più situata in realtà è nella post-mazione, nel senso dove diciamo chi siamo e perché abbiamo scritto il manifesto, eccetera. In realtà, nella versione originale del manifesto, il primo pezzo di post-fazione era l'inizio del manifesto, che però è stato bocciato da verso. Ma che inizia... E questo è spiegato, sì, sì, nel senso che noi iniziavamo in realtà con una riflessione su che cosa vuol dire scrivere un manifesto, situando un po' la cosa, però l'editore ha preferito invece che iniziassimo direttamente nel vivo del manifesto. Questo per spiegare un po' la stranezza, diciamo. Per quanto riguarda lo sciopero sociale, no, anzi, prima una questione sul manifesto contro il 9%, no, sicuramente, chiaro... allora, sicuramente è un manifesto contro qualcuno, però nel senso è difficile scrivere un manifesto, almeno, che voglia avere un impatto politico senza individuare un po' chi è il nemico, nel senso... e da questo punto di vista chiaramente il nemico principale è il capitale, questo è in realtà il nemico principale del manifesto, e diciamo la controparte secondaria è il femminismo liberale. Questo è vero, nel senso che il ragionamento che abbiamo fatto è precisamente che, proprio perché secondo noi c'è una egemonia del femminismo liberale, ovviamente, ripeto, questo non si applica in tutti i paesi, nello stesso modo non è vero che in tutti i paesi, però basta leggersi un po' di documenti delle Nazioni Unite, per vedere un po' come si è entrato un po' nella... alcune... diciamo una versione veramente pulcorata del femminismo è entrata in realtà nell'immaginario, nell'illuaggio, nel vocabolario politico, nel modo di pensare ad esempio i diritti umani e così via dicendo. e abbiamo pensato che questa egemonia in realtà rappresenta veramente un problema, rappresenta un problema in primo luogo per un progetto femminista che voglia avere di mira la liberazione di tutte e tutti, non soltanto di un'elite. E rappresenta anche un problema perché, come scriviamo il manifesto, dà un cattivo nome, una cattiva reputazione al femminismo. Allo stesso modo però in realtà il manifesto è anche... nel senso, diciamo, non è un manifesto programmatico, però alcune linee rispetto al... per che cosa vogliamo lottare, chiaramente nel manifesto ci sono, nel senso c'è alcune indicazioni di che cosa voglia dire, diciamo, superare un po' ad esempio nella tesi sulla sessualità, dove parliamo appunto della necessità di superamento, della subordinazione e della separazione fra produzione e riproduzione sociale, come un prerequisito per un'autentica liberazione sessuale, quindi con una proliferazione anche di forme familiari più variegate, ma senza che le famiglie abbiano ancora questo ruolo, e quindi questa continua pressione da rivestire all'interno delle società capitalistiche dal punto di vista della riduzione sociale. Sulla questione... volevo fare un esempio in realtà per quale motivo il femminismo liberale è veramente dannoso. Non so se avete avuto... questo è un po' un oggetto di dibattito al momento su Facebook tra americani, Taylor Swift in occasione del Pride Month ha creato una nuova canzone, You Need to Calm Down, con un video. Ora il video è veramente per certi versi è proprio una semplificazione di tutto quello che è sbagliato nel femminismo liberale, nel senso che il video è, diciamo, lei attorniata da una serie di persone LGBT famose, attrici, cantanti, presentatrici e così via dicendo, che vivono in questa comunità colorata, ognuno in tutto in colori pastello, carini eccetera eccetera, con confetti, non so scherzo, cioè con questa un po' caricatura per certi versi del... e tutta la canzone è contro sostanzialmente gli omofobi, ovviamente, You Need to Calm Down. Come vengono rappresentati gli omofobi? anni, una piccolissima manifestazione di cinque, sei, forse una decina di persone, assolutamente riconoscibili dal punto di vista del vestito, di come sono vestiti, dell'atteggiamento eccetera, come White Trash, quello che negli Stati Uniti viene chiamato White Trash, che è praticamente la classe operaia, classe lavoratrice disoccupata bianca americana, tipo gli Appalach. Quindi, sostanzialmente, cosa propone il video? Da un lato tu hai questa simpatica comunità LGBT in cui tutti si vogliono bene e si scambiano confetti e festoni colorati e tutti quanti ovviamente sono Hollywood, star di Hollywood, cantanti eccetera eccetera, dall'altro lato hai questi poveracci, classe operale degli appalachi eccetera, ignoranti, incazzati, brutti, vestiti male con le camicia quadrette tipiche del... cioè, nel senso, quando parliamo del fatto che una certa forma di femminismo liberale per certi vesti veramente crea le condizioni per un backlash di destra, ci riferiamo a cose di questo genere, in cui tu hai la demonizzazione di un settore della popolazione, la demonizzazione elitaria di un settore della popolazione, working class eccetera, e la presentazione della comunità LGBT come questa sorta di comunità elitaria, simpatica eccetera. Qua sta a pensare anche a Clinton nel basket of the broughtables, in riferimento agli elettori di Trump eccetera. L'ultima cosa che volevo dire, invece, sul... no, l'ultima cosa su questo. Ora, questo non vuol dire che chiaramente siamo contrarie al riconoscimento di diritti formati, non è questo il punto, nel senso, personalmente penso che la sentenza della Corte Suprema di qualche anno fa negli Stati Uniti sia stata una grandissima vittoria, così come il referendum in Irlanda eccetera. Quindi la questione non è tanto svalutare la rilevanza del riconoscimento di diritti, la questione è come questo tipo di politiche vengono poi strumentalizzate e cooptate da forze politiche neoliberiste e anche guerra fondaia molto spesso, nel senso basti pensare anche al pinkwashing in Israele, l'utilizzo di un certo discorso pseudo femminista per giustificare la guerra in Afghanistan, il femmo nazionalismo di cui parla Sarah Farris e così via dicendo. Quindi dal punto di vista del gender recognition act secondo me è molto importante e penso tra l'altro che il femminismo transfobico inglese che vi si oppone sia una forma sostanzialmente di politica veramente reazionaria. Quindi la questione non è tanto non riconoscere la rilevanza, chiaramente è una questione fondamentale che ha un impatto sulla vita concreta delle persone trans, porta a dei miglioramenti e dei benefici concreti, il problema è quando questo tipo di politiche vengono presentate a come la soluzione alla questione dell'oppressione del genere sessuale e b vengono strumentalizzate e cooptate da un discorso fondamentalmente neoliberista che sostanzialmente tratta le persone come se fossero delle monodi sociali e quindi problemi di discriminazione, anti-oppressione eccetera, come se fossero problemi risolvibili in termini legali. Allora io entro nel merito dei contenuti di due tesi che mi hanno in particolare interessato, la 5 e la 6, leggo il titolo delle tesi per chi non le avesse già avute sotto mano, tesi 5, l'oppressione di genere nelle società capitaliste è radicata nella subordinazione della riproduzione sociale alla produzione per il profitto, vogliamo rimettere le cose nel verso giusto. Rispetto a questa tesi una cosa che notavo è proprio, ho fatto questa analisi del testo linguistica, che tra, come dire, la dinamica che viene descritta è una dinamica in termini di coercizione nei confronti delle donne. Le donne sono costrette a prendersi cura dei bambini, le madri sono incoraggiate, le madri, gli insegnanti, sono incoraggiate ad assicurarsi che i bambini siano rigorosamente plasmati come cisgender, vengono incentivate le nascite giuste, cioè quelle di tedeschi, bianchi, italiani, statunitensi eccetera. costrizioni anche le si definisce più avanti. La tesi successiva ha come titolo La violenza di genere assume molte forme, ma sono tutte legate ai rapporti sociali capitalistici, promettiamo di combatterle tutte. Qui, appunto, il tema è la violenza e il linguaggio, quindi tutta l'analisi appunto si centra su questa parola e vengono, come dire, vengono anche proposte delle definizioni come violenza capitalista, violenza economica del mercato. Allora, volevo provare un pochettino a intrecciare le analisi delle due tesi e anche la terminologia sulle quali si basano. E volevo provare a farti diverse domande concatenate. Quale è il ruolo della violenza nella riproduzione sociale? O meglio, nella subordinazione della riproduzione sociale alla produzione di profitto. Esiste una distinzione concettuale tra violenza e coercizione in rapporto alla riproduzione sociale del capitalismo e, se sì, che cosa appunto definisce questa distinzione concettuale? Più banalmente quando parliamo di violenza e quando parliamo di coercizione. Sempre rispetto alla questione della tesi 6 sulla violenza di genere, mi colpiva anche appunto che questa dicitura, violenza di genere, solo, appunto, non è alternativa ad altri diritti, non ha sinonimi, mettiamola così. Solo in un passaggio, anziché violenza di genere, si parla di violenza maschile in una frase che in realtà dà spiegazione di come agiscono le femministe neoliberiste. La riprendo giusto per dare... Dice, le neoliberiste progressiste propongono di offrire un riparo dalla violenza maschile alle meno fortunate sorelle del sud del mondo, prestando loro modeste somme di denaro, si parla del ricatto del microcredito. Mi colpiva appunto questo utilizzo invece della dicitura violenza maschile rispetto a un discorso che non è, mi sembra di capire, quello del femminismo per il 99%, ma invece del femminismo neoliberal. E quindi io volevo sapere appunto se avevo compreso bene, se c'è una sorta di scelta specifica nel parlare di violenza di genere e non di violenza maschile e se all'interno della definizione di violenza maschile ci possa essere, come dire, si possa veicolare una sorta di analisi femminista colorblind o insomma che non prende in considerazione come anche, come dire, come la violenza di genere sia anche una violenza razziale, coloniale. Terza questione, sempre attorno alla violenza, come dire, perché è una questione molto attuale che sta discutendo in particolare non una di meno proprio dall'ultima assemblea nazionale di qualche settimana fa. la violenza, come analizzate proprio all'interno della proposta del femminismo per il 99% la violenza come pratica di lotta. Ne ho un ultimo, giuro. Cioè come pratica di resistenza agita dalle donne che subiscono violenza. Questa sono una serie di questioni appunto a partire dalla questione della violenza. E' un'altra che invece è laterale. Volevo chiederti quale, se si nota di mio interesse il fatto che in questo testo non compaia il termine intersezionalità. Volevo chiederti se potevi esplicitare le riflessioni dietro alla scelta di non fare uso di questo termine. E nello specifico, se avete, come dire, se c'è stata anche una riflessione rispetto al fatto che questa ondata femminista fa uso di questo termine. Non so se riesco a rispondere a tutte le domande. Allora, intanto quando si parla di costringere la percezione, eccetera, è chiaro che si fa riferimento in particolar modo agli elementi di costruzione che sono impliciti all'interno dei rapporti impersonali di produzione. In altri termini si tratta di forme di costruzione che non necessariamente richiedono il gendarme di turno, ma che sono relative al funzionamento mercanico, automatico del mercato capitalistico e del tipo di pressioni che pone. Quando parliamo di violenza di genere, invece, chiaramente ci facciamo riferimento più direttamente a una violenza agita o da istituzioni, una violenza in parte o in modo fisico, ma non soltanto agita o da istituzioni o da individui. Ora, la cosa che volevo però chiarire su questa questione è qua, perché abbiamo avuto anche un po' una discussione su questa tesi sulla violenza, nel senso che avevamo anche delle sensibilità un po' diverse, quindi vi dico un po' la mia. Uno dei rischi, chiaramente, soprattutto quando si parla di violenza di genere, la si colloca all'interno di questa analisi del capitalismo, uno dei rischi è quello o di cadere in una forma di funzionalismo, per cui la violenza di genere ha sempre un rapporto funzionale rispetto alla rivoluzione del capitale, quindi qual è il ruolo, ad esempio, qual è il ruolo della violenza di genere nella rivoluzione sociale, oppure il rischio è di cadere in una forma di determinismo, cioè alcuni fenomeni oppure il modo funzionale del capitale necessariamente, automaticamente produce determinate forme di violenza, eccetera. Secondo me è la cosa un pochino più complicata di così, e non so dare una risposta, diciamo, nel senso che non ho una tesi sviluppata rispetto alla natura delle violenze di genere, eccetera. Quindi quello che è venuto fuori nella tesi alla fine è sostanzialmente andare a vedere, non tanto, in alcuni casi si può parlare di un ruolo di violenza di genere, adesso spiego in quali casi, però sostanzialmente andare a vedere non tanto come il capitale produce violenza di genere in maniera automatica, eccetera, ma quali sono i fenomeni capitalistici che sostanzialmente rendono il fenomeno della violenza di genere peggiore, per le donne, nel senso che aggravano le condizioni, a partire dalla questione appunto dell'insicurezza economica, della mancanza di indipendenza economica che rende impossibile fuori uscire da situazioni di violenza domestica, all'uso della violenza sessuale come arma di controllo di un territorio, di una popolazione in situazioni di guerra, quindi durante aggressione imperialista ad esempio, l'uso della violenza sessuale nei centri di detenzione per migranti, e quindi diciamo lo stupro sistematico delle donne migranti, chiaramente è una forma di violenza politica, di genere politica, quindi ha una finalità precisa che è quella sostanzialmente di creare il panico e di funzionare come una sorta di disincentivo alla migrazione, quindi fatto in maniera del tutto cosciente ed è anche una forma di disciplinamento delle migranti prima che arrivino nei paesi di destinazione. La violenza sui posti di lavoro, quindi nel caso delle molestie sessuali e delle violenze di genere sui posti di lavoro, che da un lato spesso si può vedere come sia la conseguenza di una certa forma di organizzazione del lavoro, cioè nel momento in cui hai luoghi di lavoro che sono organizzati gerarchicamente, con scarsi se non inesistenti diritti sindacali, forme di precarietà del lavoro eccetera, è chiaro che questo crea un ambiente in cui la molestia sessuale, la violenza di genere può proliferare. Allo stesso tempo ci sono anche casi in cui in realtà la violenza di genere è proprio utilizzata come una forma di disciplina, quindi ha un carattere direttamente più politico perché è utilizzata come una forma di disciplina della forza lavoro. Sto pensando in particolar modo al caso delle marchiadoras in Messico, in generale nelle grandi manifatture a forza lavoro femminile, nelle zone di esportazione dove i fenomeni di violenza sessuale hanno un ruolo. Sono da un lato conseguenza della trasformazione sociale che è avvenuta a seguito delle aperture delle zone di esportazione, dall'altro svolgono anche un ruolo politico di disciplinamento della forza lavoro. Quindi la cosa è un po' complessa, nel senso che secondo me non è possibile individuare una spiegazione causale univoca rispetto per quale motivo abbiamo il fenomeno della violenza di genere eccetera. quello che è possibile fare è individuare alcuni, nello specifico alcuni meccanismi, alcuni elementi che contribuiscono a rendere, o che creano proprio l'occasione perché si dia la violenza di genere o che rendono le conseguenze ancora più pesanti e così via dicendo. Non so se c'è stata una decisione consapevole di utilizzare la violenza di genere anziché la violenza maschile, probabilmente la gender violence è la forma più comune di parlare di violenza contro le donne, almeno negli Stati Uniti in inglese. Allo stesso tempo però se ci penso può darsi che effettivamente utilizzare la violenza di genere può avere un senso dal punto di vista dell'identificare come diciamo nel genere e nel complesso dei rapporti sociali che ruotano attorno al genere l'elemento centrale di questa forma di violenza piuttosto che in una classe della popolazione cioè gli uomini in quanto tali. Infine sulla questione intersezionalità, perché non la si usa? Perché allora abbiamo delle opinioni diverse sull'intersezionalità tra di noi, tra le autrici del manifesto, nel senso che Titi Patasciari ad esempio ha scritto anche su questa questione fondamentalmente pensa che ci sia una, dal punto di vista proprio epistemologico una differenza radicale fra il femminismo marxista e l'intersezionalità, nel senso che l'intersezionalità non concettualizzerebbe la questione dell'identità e delle varie vetture di oppressione in termini di rapporti interni tra le varie forme di oppressioni, quindi rapporti interni legate al capitalismo. Io ho una posizione diciamo intermedia su questo, nel senso che in realtà intersezionalità ormai vuol dire un po' tutto e niente, nel senso che abbiamo utilizzato, cioè in primo luogo non è una, dal punto di vista teorico non è un campo omogeneo, nel senso abbiamo versioni totalmente disparate di che cosa si intende per, incluse versioni liberali, di che cosa si intende per intersezionalità e quindi andiamo da Angela Davis, a un certo punto penso che Hillary Clinton utilizzano in termini di intersezionalità. Quindi chiaramente la cosa è declinata in maniera completamente diversa e questo è un primo problema. Dal punto di vista teorico quello che direi è che secondo me quello che, diciamo in tutte le versioni dell'intersezionalità comunque, quello che, cioè da un lato penso che in realtà non sia del tutto vero che teoriche intersezionaliste pensino i vari vettori di oppressione come vettori separati che poi si infreccionano, ma in realtà in alcune versioni dell'intersezionalità c'è questa idea della costituzione reciproca delle varie forme di oppressione, eccetera, della continua trasformazione reciproca. Il problema reale secondo me è il fatto che, almeno per me dal punto di vista, magari non è un problema per loro, il problema reale è che a mio avviso quello che manca è una teoria del capitale, cioè una teoria di che cos'è il capitalismo, di come funziona il capitalismo, che non sia semplicemente una descrizione empirica o sociologica o storica di alcuni fenomeni capitalistici, ma che sia proprio una teoria, nel senso, cioè su cosa si regge, quali sono le dinamiche fondamentali, su cosa si regge il capitale. E questo porta anche a vedere, spesso a vedere la classe come se fosse, diciamo, una forma di oppressione insieme alle altre, senza andare a ragionare invece sul modo in cui, secondo me, i rapporti di classe strutturano le società capitalistiche in maniera fondamentale. Chiaramente poi bisogna capirsi su cosa si intende per classe e chiaramente il concetto di classe ovviamente non ha, diciamo, altro che interno la questione della razionalizzazione e del genere, non è esterno. Però fondamentalmente, diciamo, questo è il problema teorico che vedrei nell'intersezionalità. Quindi, da un certo punto di vista, il problema è una mancanza, un deficit di capacità di spiegazione causale. Quindi, dal punto di vista politico, in realtà, probabilmente, con femministe intersezionaliste o almeno, diciamo, anticapitaliste, ci troveremo e ci troviamo d'accordo su praticamente tutto, cosa va fatto, come ragionarci, eccetera, eccetera. Il problema è dal punto di vista teorico, penso che c'è lì un deficit su cui, secondo me, invece, il femminismo marxista ha prodotto delle cose rilevanti. A sua volta, il femminismo marxista, probabilmente, potrebbe imparare un po' a quanto meno delle analisi, delle specifiche analisi intersezionali, ad esempio, come si intrecciano il genere, razzializzazione, eccetera, perché su questo, secondo me, le femminismo marxista, con alcune eccezioni, non hanno scritto sufficientemente. Io provo a restituire una lettura, diciamo così, situata, nel senso che prima è stata fatta una domanda su come sono situate le autrici, io vorrei, diciamo, situarmi come lettrice. Questa copia che ho del libro è circolata, ovviamente, tra tutte le compagne di Torino, della Riterona di Menno, quindi un libro che è stato letto e discusso. Diciamo, ci siamo molto ritrovate su tanti aspetti teorici, tanti aspetti di agnosi, che sono effettivamente quelli che caratterizzano, credo, questo ingrata così di movimento femminista. Beh, anzitutto una chiara presa di posizione verso il femminismo dell'elite. In Italia, penso che è il momento di presa forte di coscienza, in questo senso, in 2013, con il movimento Se non ora quando, che determina una vera, diciamo, spaccatura tra un certo femminismo conflittuale e un femminismo invece un po' in servizio, in qualche modo, di discorso delle sinistre che andavano, proprio in quel periodo, un po' a definirsi come diceva Cinsera. L'altro aspetto che ci è sembrato fondamentale per una lettura dell'Italia è una chiara definizione di cosa sono queste posizioni neotradizionaliste o neoreazionari, nel senso che spesso scontiamo qui una, diciamo, retorica un po' del ritorno al medioevo. Abbiamo cercato su questo, ad esempio, in occasione del corteo di Verona, di fare un grosso lavoro, cioè per dire queste forze politiche non hanno niente a che fare con il medioevo, ma sono espressione proprio della contemporaneità. Quindi questo è un aspetto che ci è sembrato utilissimo. E poi, vabbè, due grossi temi, quello della riproduzione sociale come terreno politico del contemporaneo e terreno politico per un posizionamento feminista. E io personalmente mi ritrovo molto nel modo in cui lo descrivete, cioè come un concetto ampio, dentro il quale possono stare tante prospettive di lotta, anche quella ecologica, climatica, eccetera. e poi la questione dello sciopero che qui, diciamo, viene declinato su tre assi, cioè come sciopero politico, sociale, vertenziale, con anche alcune difficoltà a volte a far stare insieme questi tre aspetti, nel senso che lo sciopero politico è forse quello che si riconduce di più ai termini, ai temi della norma di meno sudamericana, quindi uno sciopero contro la violenza di genere, la violenza maschile, uno sciopero sociale più nella direzione a cui faceva accenno Luisa prima con anche tutti i suoi limiti e sciopero vertenziale nel senso che comunque si cerca di tenere aperto un dialogo per quanto faticoso con i sindacati e con le istanze anche concrete delle lavoratrici. Quindi comunque c'è l'idea che lo sciopero sia un po' lo strumento politico caratterizzante di questo movimento femminista e proprio magari ancora sullo sciopero ti chiederei una prospettiva un po' internazionale. Cioè queste sono proprio le declinazioni che abbiamo sentito molto forti qui in Italia ma forse ne è distante. Ha avuto anche altre declinazioni e questo mi sembra un aspetto centrale. Per quanto riguarda gli aspetti non vorrei dire problematici ma che sicuramente ci hanno interrogato di questo manifesto ma direi che sono due. Il primo riguarda questo termine il 99% che è molto forte immagino che anche questo abbia un suo senso molto situato, penso occupare immagino che sia volontario tuttavia immaginare questo 99% anche a livello transnazionale almeno per noi è stato molto difficile cioè uno dei temi dell'ultima assemblea nazionale era proprio come costruire questo livello prendendo seriamente però le critiche le autocritiche, il bosco, l'oniali eccetera che ci siamo fatti quindi questo passami il termine ma questa leggerezza così nel dire manifesto per il 99% a noi ha o comunque ci ha messo di fronte così forse a una differenza qualcosa che noi vediamo come molto problematico da costruire e che qui sembra diciamo un po' pensato in una prospettiva internazionalista più classica quindi questo devi fare questa domanda e l'altro riguarda la questione del movimento misto cioè ovviamente l'intenzione è totalmente condivisa penso che questo movimento femminista abbia finalmente una vocazione maggioritaria cioè si è uscita dalle vocazioni un po' così minoritarie di un certo femminismo radicale e questo è molto positivo ma a me sembra che diciamo il compito di renderlo misto e renderlo 99% a questo punto non è del femminismo ma è in qualche modo del movimento misto cioè è un compito a questo punto che costa sono i soggetti non femministi eccetera che devono che devono fare cioè mi sembra che ci fosse quasi una così un'interiorizzazione quasi della uno scusarsi quasi di dire ok si siamo femministe però ci interessa tutta la politica invece forse a questo punto e con la forza che ha questo movimento che almeno in Italia è l'unico movimento in grado di muovere dei numeri importanti diciamo uno sforzo che mi aspetto che facciano altri soggetti ok allora no si non ho parlato per niente dello sciopero di solito parlo sempre dello sciopero allora intanto per rispondere alla domanda di Luisa prima no no non credo che lo sciopero sociale sia stato in grado di attaccare rapporti di forza tra le classi magari fosse così ma siamo in realtà all'inizio di un percorso di ricostruzione di soggettività e non parliamo neanche di infrastrutture di organizzazioni di soggettività che possano diciamo iniziare un processo di trasformazione di rapporti di forza ma no quindi secondo me lo sciopero diciamo ha una funzione è un profilo a livello internazionale soprattutto performativo il che non vuol dire che non venga bloccata la produzione in alcuni in alcuni casi si tratta anzi in diversi casi esistono poi hanno luogo degli scioperi all'interno della produzione dei luoghi di lavoro eccetera non si tratta di scioperi soltanto a parole sono scioperi e introduzioni del lavoro vero e proprio ma chiaramente con un profilo sostanzialmente politico e cioè al momento lo sciopero secondo me a livello internazionale ha svolto è stato diciamo il processo di politicizzazione e soggettivazione principale di questo movimento quindi vedo un po' lo sciopero come intanto un processo è quello che ha permesso di mettere in evidenza il rapporto fra produzione e riproduzione sociale il lavoro delle donne ma che ha anche permesso sostanzialmente di reintrodurre all'interno del movimento femminista un discorso di classe direttamente cioè parlando di sciopero direttamente questo ha sostanzialmente già cambiato la dinamica del stesso movimento femminista ad esempio mettendo in primo piano la questione fondamentale del rapporto con i sindacati e per rapporto non intendo dire con i sindacati necessariamente intendo dire anche dedicarci nel senso c'è avere un confronto anche polemico in Argentina hanno occupato la sede sindacale nel senso perché si rifiutava la confederazione si rifiutava di convocare lo sciopero però diciamo ti obbliga sostanzialmente a porti in relazione anche conflittuale di dialogo e di conflitto con le organizzazioni del lavoro sostanzialmente e quindi da questo punto di vista secondo me cambia un po' già la dinamica politica del movimento obbliga anche a pensare laddove la questione non è semplicemente rapportarsi a organizzazioni sindacali già esistenti ma laddove in realtà ha a che vedere con figure lavorative non sindacalizzate o non sindacalizzabili ma tutto il settore ad esempio dell'economia informale dell'economia popolare in Argentina in America Latina eccetera la questione dello sciopero ha posto anche lì la necessità di riflettere seriamente su come si organizza uno sciopero nel senso di questo tipo specifico di forza lavoro femminile eccetera cioè che tipo di strutture ad esempio possono sostituire il sindacato e così via dicendo lo stesso vale per gli Stati Uniti dove praticamente il tasso di disintervalizzazione nel settore privato è del 5% quindi quando si parla di sciopero adesso stiamo discutendo della possibilità di provare a organizzare uno sciopero in risposta a quella che sarà la discussione della Corte Suprema sull'apporto e quindi provare diciamo sul modello colacco organizzare uno sciopero di massa in difesa dell'apporto discuterlo però lì vuol dire da un lato appunto ragionare sul rapporto con un sindacato che probabilmente trapeggia il mondo francamente dall'altro ragionare sul fatto che in realtà tutta una serie nella stragrande maggioranza cioè siamo nel 95% del settore privato non c'è il sindacato non ci sono diritti sindacali di nessun tipo allora come si fanno organizzare lavoratrici di questo tipo che lavora in questo cioè che tipo di forme si possono mettere in campo eccetera quindi dire la mia io penso che lo sciopero femminista sia fondamentalmente uno sciopero politico lo possiamo chiamare politico sociale ma che la sua forza per certi versi a livello internazionale sia stata soprattutto questa sulla questione della 99% ma intanto non mi fa un po' sorridere che vi siete forse il problema dell'internazionalismo perché in realtà ad esempio lo slogan è il femminismo per il 99% il paese in cui sta andando veramente più di moda nel senso che è stato utilizzato ormai dal movimento eccetera il Brasile e in particolar modo con l'attivazione anche di tutta una serie di femministe nere e brasiliane che hanno ripreso sostanzialmente sia il manifesto che lo slogan e lo stanno utilizzando come uno strumento di inubilitazione eccetera anche contro Bolsonaro il motivo è perché in realtà nel testo lo chiariamo abbastanza chiaramente noi non abbiamo minimamente in mente l'ipotesi di un'omogeneità sociale o geopolitica eccetera al contrario insistiamo sul fatto che qualsiasi processo di liberazione che abbia delle ambizioni universalistiche deve necessariamente ripensare l'universalismo come un universalismo pieno di determinazioni non un universalismo astratto cioè vale a dire si parte precisamente dal fatto che esistono delle differenze fondamentali nel modo in cui si possiamo dire per certi versi siamo tutti nella stessa barca però non siamo negli stessi punti della barca ad alcuni arriva più acqua e ad altri stanno un po' più all'asciutto cioè nel senso esistono delle differenze rilevanti esistono delle forme appunto di oppressione specifiche che non riguardano tutti tutte e il modo per costruire un movimento con ambizioni appunto di per utilizzare il termine latinoamericano trasversalità cioè con ambizioni sostanzialmente universalistiche di attraversamento di tutta la società eccetera questo non lo si può fare diciamo facendo finta che queste differenze non esistano lo si deve fare a partire invece da un progetto politico in grado di rispondere diciamo ai bisogni e le condizioni specifiche delle varie soggettività soggettività in campo quindi questo 99% non è diciamo un 99% omogeneo è pieno di determinazioni interne il motivo per cui abbiamo utilizzato il termine 99% chiaramente lo richiamo Occupy e in realtà lo slogan è stato inventato da Nancy Fraser quando sostanzialmente si trattava di trovare un titolo per il primo appello per la convocazione del primo sciopero femminista negli Stati Uniti che poi abbiamo pubblicato su The Guardian e lì bisognava appunto pensare a un titolo che per certi versi sintetizzasse poi quello che abbiamo articolato dopo nel manifesto tre anni dopo infatti credo che l'appello fosse beyond in what we need is a feminist for the million percent cioè l'idea era bisogna posizionarsi ma bisogna anche convocare lo sciopero rendendo anche chiaro che questo femminismo è alternativo al femminismo di Sandberg dell'in-in della donna in carriera eccetera eccetera chiaramente il richiamo era Occupy allo stesso tempo c'è lo slogan di Occupy era un slogan di auto-identificazione cioè noi siamo il 99% contro l'1% dell'elite finanziaria il 99% il nostro 99% non è un 99% di auto-identificazione ma piuttosto diciamo di prospettiva nel senso cioè un modo di dire è un femminismo universalista cioè un femminismo che vuole una liberazione universale non una liberazione a cento di poche a costo di altre quindi da questo punto di vista l'idea non è quella di presentarsi come un indistinto 99% no questo è un manifesto femminista che dice molto chiaramente non solo un manifesto femminista ma un manifesto che anche prende posizione anche se non articoliamo delle tesi su questo ma che prende posizione sulla questione del transfeminismo sulla questione LGBT sulla questione del sex work eccetera cioè è anche si posiziona non soltanto come femminista ma anche all'interno del dibattito femminista a sinistra con un femminismo specifico però a partire appunto da una autoidentificazione come femminista per il 99% l'idea l'ambizione è quella appunto maggioritaria cioè è possibile articolare una proposta politica un processo di mobilitazione una proposta di società alternativa a partire da una visione femminista che però valga per tutti nel senso che sia che porti una liberazione per tutti e chiaramente l'idea dietro questa è che riteniamo che non sia possibile non pensiamo che ci sia un collegamento automatico tra superamento del capitalismo liberazione delle donne delle persone qui l'idea più che altro è che però se non superiamo il capitalismo nel senso se rimaniamo in questa forma di società sicuramente non possiamo liberarci come donne o quanto meno la massa delle donne delle persone di queer sicuramente non possono liberarsi però se questo è l'orizzonte è chiaro allora che la mia proposta femminista deve avere una capacità egemonica nel senso deve avere una capacità di appunto attraversare tutti i settori della società mobilitare tutti i settori della società perché non lo superiamo da sole il capitalismo quindi da questo punto di vista per l'ultima questione sul movimento misto eccetera io la metterei in questi termini cioè io come militante diciamo femminista in riunione femministe voglio trovare con delle femministe e dei femministi nel senso cioè non è che sto facendo un lavoro di assistenza sociale per cui ci imbattiamo tutti pur i peggiori sessisti e poi proviamo a convincerli con tentativi estenuanti di persuasione razionale anche no nel senso quindi diciamo per me la barra è chiaramente se ho convo una opinione del movimento femminista eccetera chi partecipa si presume debba essere un femminista poi che genere abbia per me è meno rilevante personalmente anche perché nel senso chiaramente non tutte le donne sono femministe ovviamente non tutte le donne che si chiamano femministe lo sono veramente amano le donne e ci sono anche per quanto mi riguarda uomini femministi e secondo me bisogna anche un po' superare l'idea che il femminismo è sostanzialmente un approccio settoriale stiamo parlando sostanzialmente della maggioranza della popolazione mondiale è un po' definirlo un settore specifico esattamente e quindi un po' secondo me c'è anche la necessità di superare per certi versi la logica per cui di femminismo parlano soltanto le donne o soltanto le persone queer eccetera la questione del fatto che più di metà della popolazione mondiale oltre a diciamo subire gli effetti del capitalismo in generale abbia anche una forma di oppressione subisca anche un'oppressione specifica in quanto le donne in quanto persone queer eccetera dovrebbe essere un elemento di interesse primario di teorici di sinistra marxisti di teoria politica radicale non dovrebbe essere l'appannaggio soltanto delle teoriche femministe dovrebbe essere per me diciamo libri di teoria marxista in cui non c'è nessuna menzione del rapporto fra oppressione di genere e capitale eccetera in nessuna forma secondo me anche basta nel senso bisogna anche andare un po' avanti stiamo parlando di un elemento fondamentale della società globalistica non di un elemento secondario se vogliamo analizzare realmente una funzione capitale magari teniamo il genere e la razza e l'immigrazione in considerazione altrimenti stiamo parlando un po' di aria fritta quindi diciamo per chiarire nel senso condivido la tua preoccupazione nel senso l'idea non è quella di andare a rincorrere chi non è convinto o di ma di mantenere appunto spazi organizzativi politici femministi però con una capacità che può passare anche attraverso il conflitto ad esempio il conflitto con le buroversie sindacali non è che devi andarci a prendere l'aperitivo in maniera conviviale necessariamente cioè nel senso ci puoi anche confliggere però con una capacità nel senso con dietro alle spalle una proposta politica che che è una proposta politica sostanzialmente di liberazione per tutti e tutte e a cui diciamo a partire dalla questione della questione femminista e rispetto alla quale deve diventare sempre più difficile avere organizzazioni sindacali o organizzazioni miste della sinistra eccetera eccetera continuare a fare base in barile demanotte parce pairs so grazie